Iniziava ad aprire gli occhi, tutti quanti hanno applaudito a lei. La prima cosa voleva la mamma. Però hanno visto lei che comunque iniziava ad aprire gli occhi, tutti quanti hanno applaudito a lei e hanno detto forza Noemi che ce la fai. Come sono questi medici? Bravissimi, stanno facendo di tutto per mia nipote. Voglio ringraziare tutte le persone che gli stanno vicino, che vengono a pregare fin qua per Noemi. Grazie a tutti quanti. Gessi, lei mi sei svegliata per tutti gli occhi? Sì, un po' così gli arei aperti, sì. La prima cosa voleva la mamma. La prima cosa voleva la mamma, sì. La chiamata? Sì, sì. I medici cosa hanno detto? No, ora ancora non so, però ci stanno buone speranze. Come avete reagito all'arresto? Sono stata contentissima stamattina, appena l'ho saputo sto proprio bene. Voglio solo che deve soffrire, deve soffrire molto come stiamo soffrendo noi. E basta. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, sei là quando la chiamata è stata colpita? Sì. E questo ovviamente è una scena che non dimenticherai. Mai più, è normale. Come? Non si può dimenticare. Non si descrive, non si può descrivere. Perché è successo, c'è tutto all'improvviso. Uno scende, si prende un caffè e succede tutto questo. Non vi siete accorti subito quando mi era stata? No, non ce ne siamo accorti nessuno. Neanche la mamma, nessuno. Perché non c'erano dolori, lei non diceva niente. Non usciva sangue, niente, capi? Già, ti dai, cosa vi aspettate? Voglio solo che mia nipote si mette a posto, che si sveglia e usciamo da qua e facciamo una grande festa tutta per lei. Mia sorella sicuramente è d'accordo che sì. Ringrazio a tutti mia sorella e mio cognato. Ce l'aspettate tutto questo calore? Tutto questo no, non ce l'aspettavamo. Però grazie a tutti quanti che ci stanno vicino. Cosa le dirai quando la vedrai? La prima cosa me la devo abbracciare forte forte a me. Lei ci hanno portato tutti i giocattoli, tante belle cose tutte per lei. E lei ci piacciono le lollo. Lei appena ha detto che vuole le lollo, lei. Ha alzato la mano quando Fabio le ha chiesto se voleva le bambole? Sì, lei voleva le bambole, sì, ce le ha chieste. Speriamo che va tutto bene e che esci presto. Che aspettiamo lei. Grazie. Grazie.